Allora, siamo in Basilicata, questo era quanto a me, sono altri piloni sempre di Morandi, questo in effetti è un'altra sorta di ponte Morandi, anzi di piloni, di una struttura progettata dal Morandi, un po' come quella di Genova, però attualmente è ancora in piedi e regolarmente usurribile da parte degli automobilisti.